Il sapore è amarissimo anche perché non ci aspettavamo questa prestazione e per cui siamo contenti delle medaglie di ieri anche se è mancato un'ora, però 5 medaglie è un numero importante quindi siamo estremamente competitivi oggi devo essere sincero abbiamo tirato bene la semifinale ma questa finale non è proprio stata tirata per cui ora dobbiamo vedere perché, capire perché poi parleremo con i ragazzi perché questo non è il nostro livello Vicino intanto qualificando la squadra di ferito maschile che è prima nel ranking, qualificando già due ragazzi aspettiamo il ricottore del terzo ma Massa è a soli tre punti dalla qualifica per cui si giocherà tutto a Parigi scusa, si giocherà tutto a San Paolo per cui le premesse sono buone ovviamente questo inciampo qua ci lascia un po' di... Ciao mamma! È arrivato il postulatore